Buonasera, vi do il benvenuto a noi del Festival Regionale di Musica Sacra che con questo concerto, almeno per quanto riguarda il capoluogo, chiude questa edizione 44esima e abbiamo iniziato per costruire col botto, vi ricordate, di San Francesco di Consalello e chiudiamo altrettanto con il botto questa sera, un concerto davvero eccezionale e siamo lieti di ospitare il corno bociliante a Lorenzo Scala e i tempi di Piatti e ci avverranno delle pagine autologiche e riprese dal grande deprattorio della Musica Sacra vedete gli autori Endel, Schultz, Mendelssohn, Gruber, Kappi che vanno là, insomma ce l'è per tutti i gusti e un concerto che si riferirà iniziale di grande interesse soltanto per la presenza di papilli che cantano nel Festival, ormai è quasi traduzionale che ci sia un appuntamento di questo rilievo che dà spazio a questa grande traduzione, soprattutto in Germania, dove i bambini ancora sono educati in maniera individuativa, avete visto da qui, come in centro, ha già riflettuto una grande traduzione del gruppetto per la formazione musicale, ma avremmeno il periodo di Piatti per l'utilizzo di strumenti, vedete già la scritta, il piccolo ordolo portativo che assomiglia moltissimo all'ordolo più allo strumento dell'altoatrice, quello conservato a Castelcoyle e insomma, l'interesse c'è, non vi auguriamo un buon ascolto e speriamo che sia un buon concerto da parte mia, un ringraziamento ancora dal vettore artistico Antonio Cammini che ha organizzato il tutto e che ha speso la sicurezza della commissione artistica delle energie cercando di dare il bene. Grazie e buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.